saluti sono oggi il cas 28 e questa volta voglio portarvi slain back from hell un gioco indie ovviamente con musica metal e un dossier di gioco alla castellania possiamo dire anche se non molto limitato con gli attacchi diciamo allora possiamo continuare ma invece non continuiamo facciamo una nuova partita perché il gioco io l'ho già finito quindi facciamo una nuova partita facciamo in questo slot vuoto perché non voglio cancellarmi i dati sa precedenti anche se non ho fatto relativamente nulla e iniziamo patorin svegliati fattene spirito ti ho dato abbastanza l'ultima volta ah ti ricordi ancora di me patorin è così ora vattene e di nuovo ora guardiano i tuoi figli hanno bisogno di te figli io non ho mai avuto figli ti ho detto che non ho figli ora lasciami dal mio sonno e o cazzo mi vuoi uccidere uffa io voglio dormire non ho figli perché spirito sai cosa deve essere fatto devo suonare di nuovo nella band non appena il 22 sarete finiti i demoni si desteranno dalla loro fede da tana servici di nuovo nel mondo migliore da thorin e possono luo il fuoco ghiaccio e acciai a prevalere era meglio suonare nella rock band va bene e noi adesso siamo questo cavaliere metallaro perché se si vede non sarà capito che era una sorta di metallaro di quelli hello ma torn ci incontriamo di nuovo è davvero una guerra eterna quella che combattiamo non ti conosco bovinio ma ci batteremo alla fine del gioco silenzio mortale gli serve occuperanno tua insolenza va bene e questi sono i tuoi servi permesso buongiorno grazie attraversando un reggio spirito completato livello si aspetta allora qua mi sembra che non ci sia un niente di speciale solo andare avanti e massacrare cose ha già mi ricordo trappola sì sto gioco se non stai attento poi morirci in tre secondi e il di qua no quindi qua vieni qua bravo ok ponte vieni a me piattaforma perché questo gioco è anche un platform perché ci sono le piattaforme e sa platform no upla aspetta non sono pronto lo sono pronto cazzo ok grazie c'è o meno vita del solito va bene se in questo gioco se non mi sbaglio non puoi modificare la difficoltà di gioco e non c'è neanche il new game plus quindi una volta finito il cazzo di gioco vado avanti sono offeso vado via basta interrotto i coglioni a o salve o scheletri non ho mai visto uno scherzo in un videogioco come questo come che so in dark souls addio bastardo vieni qua facciamo come a tennis tu sia la macchetta che spara le palle io devo parartele ci vorrà un po oppure ecco molto meglio o cazzo com'era la parata aiuto non mi ricordo la parata anche con un triangolo che che c'ho provato no da qui no salato qua merda una aia due l'alveare a questo alveare e di qua voglio soltanto giocare a palla ha già ostia ma guardalo vieni qua può fare a aia ho poca vita ho paura salve sai cosa faccio mi ha seguito bastardo mi ha seguito devo farmi tutta la no io sprego mana per beccare uno stupido stronzetto di qua piattaforma di qua e di a me la chiave c'ho c'ho un piccolo problema c'ho un enorme aspetta posso rimediare no e si facendo questo attacco caricato recupero un po' di mana ma la salute rimane lì quindi questa difficoltà del gioco non puoi recuperare vita così facilmente bello che non trovi un checkpoint come cato qualcuno aia quarta lì allora piattaforma piattaforma o faccio il boscaiolo a di nuovo dai mi qua mi sento carico mi sento carico con calma tanto non ci insegue nessuno circa ancora avevo dicevo prima così bastava dirlo aspetta mi hai distratto colpa tua a ma salve non mi sei mancato per niente a modo fa giochiamo nascondino 1 2 3 stella aspetta ok 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 c'è la trappola via quante cose davanti a me quanta a il cortile della torre di sangue ecco il boss che osano lordare il mio santuario a sangue fresco di uomo le mie papille gustativi che ho a malapena possono essere soddisfatte fatti da parte creatura o sarò costretto a farti a pezzi a son di rock certo peccato che io detesti il rock e il metal se non ti sottometti per i fatti no aspetta aspetta non ci siamo capiti e io sono quello che fa male ecco vedi quanto ecco il pericqua serve cazzo guarda sono già metà vita scherzavo foglio bene come la picchio come lo picchio adesso a così ok ok avevo ucciso la bestia di spine se non era che ancora che ancora sta sangue una cascata oh e quanto ne ha di sangue dentro e sangue vero vabbè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti